Ciao Google, bentornata e bentornata da Carlo. Continuiamo il percorso dell'assemblaggio del tuo computer. Proseguiamo quindi con il duro lavoro che ci permetterà di assemblare componente dopo componente il tuo PC. Ora è il turno del case e della schiera madre. In particolar modo, nell'ultima lezione ti stavi interfacciando con la schiera madre. Per il momento, mettila da parte e prendi il case, il cabinet. Per l'assemblaggio, attualmente lo scopo è quello di accedere all'interno. Quindi dovrai individuare il modo di apertura dei pannelli laterali e superiori per interagire con il terno. Una tipologia costruttiva che permette di rimuovere i pannelli è quello di accedere all'interno rimuovendo delle viti di serraggio posse nel reto dello stesso. In questo caso, tramite un giravide, otterrà il risultato. Un'alternativa possibile è la presenza di uno o più dati di serraggio sempre posizionati nel reto del pannello nella zona superiore o laterale che, una volta rimosso, permetterà lo sblocco dei pannelli laterali e superiori semplicemente guidandoli, facendoli scorrere verso l'alto e lateralmente. Un'ultima ipotesi è quella in cui i pannelli sono totalmente ad incastro, quindi un semplice spostamento o verso l'alto o lateralmente produrrà il risultato dello sblocco. Ora, una volta che hai rimossi i pannelli, posiziona il tuo cabinet sulla scrivania, sul lato piatto, il lato largo insomma. Al suo interno troverai, verosimilmente, presenti già alcuni componenti oppure collegamenti, come ad esempio dei fili che potranno essere collegati a delle interfacce frontali o superiori che in seguito dovrai connetterli ai corrispondenti spinotti o piedini presenti sulla scheda madre. Ancora troverai un mini altoparlante che permetterà in seguito, in fase di accensione, una diagnostica a secondo di bip che emetterà nel caso di un malfunzionamento. All'interno della scatola che custodiva il case, troverai ad esempio una bussina al cui interno puoi trovare delle viti e dei distanziatori che possono essere di plastica o di metallo. A cosa servono questi distanziatori? Permetteranno di tenere sollevata la scheda madre nel momento in cui la alloggerai al suo interno per evitare che i piedini dei componenti saldati sulla stessa possano venire in contatto con la lamiera del cabinet scongiurando così dei cortocircuiti che possono essere fatali alla stessa. Qui rappresentato in figura trovi già posizionati alcuni distanziatori che possono essere o di natura metallica o di plastica. Quindi prendi un numero di distanziatori pari ai fori presenti sulla scheda madre con un numero che normalmente si aggira tra i 4 e i 6 fori ed avvidali sui corrispondenti fori presenti sul cabinet più o meno posizionando la scheda madre al suo interno in modo da individuare la direzione di alloggiamento. Potrà individuare il verso di alloggiamento semplicemente rendendo in considerazione i connettori retro della scheda madre che andranno nella zona posteriore del cabinet in corrispondenza di una fessura che verosimilmente se non già presente dovrai creare in seguito. Come creerai questa fessura? Semplicemente agendo sulla lamiera preselezionata, tagliata in fase di costruzione utilizzando un giravita d'intaglio e premendo verso l'esterno forzando questa lamiera in modo da spezzare quella piccola anima di metallo che ancora tiene assieme questa lamierina con il resto del cabinet. Ora avendo posizionato i distanziatori e avendo eliminato questa mascherina, questa lamierina potrai prendere la tua scheda madre ed alloggiarla al suo interno. Quindi prendila con delicatezza agli estremi ed appoggiala grossolanamente all'interno del cabinet facendo collimare i fori della stessa con i distanziatori precedentemente inseriti. Una volta posizionata agevola l'inserimento dei connettori retro della scheda madre nella fessura che avrai precedentemente creato nel cabinet. Una volta appoggiata la scheda madre all'interno del cabinet vai ad inserire una mascherina di protezione che occluderà tutta la fessura che avrai precedentemente creato per evitare che rimanga vuota questa sezione fornendo una protezione ai connettori stessi. Questa mascherina dovresti trovarla verosimilmente all'interno della scatola che conteneva la motherboard quindi come avevo detto inseriscila per coprire i connettori retro della scheda madre. A questo punto prendi delle viti a croce nella busta dove erano presenti i distanziatori ed avvitane una per volta alla fidettatura che è presente all'interno di ogni singolo distanziatore al fine di bloccare la scheda madre. Ma attenzione, non esasperare nel serraggio per non lesionare e quindi spaccare il circuito stampato della motherboard. Ricordati che questo circuito stampato è di natura plastica, quindi di resina. Bravo Cutler, brava Cutler, hai compiuto un ulteriore progresso per l'assemblaggio del computer. Ora il turno della scheda grafica. Potresti aver acquistato una scheda video a parte anche se fosse presente sulla motherboard. Ora cosa devi fare? Quella che avrai acquistato avrà un'interfaccia del tipo PCI Express quindi individua la zona del connettore di questa scheda grafica per poterla alloggiare poi all'interno della scheda madre. Questa scheda è alternativa alle più vecchie schede di tipo AGP per cui riguarda l'inserimento il compito è relativamente semplice grazie allo slot che può essere diverso tra i vari tipi di scheda madre tra i due standard AGP e PCI Express però a complicare un pochino le cose ci pensa proprio lo standard nuovo lo standard PCI Express cerchiamo di semplificarli quanto più possibile. Come per lo standard USB che è partito dalla versione 1.0, 1.1, 2.0 e ad oggi siamo ad interfacciarci con gli standard 3.0 anche le schede PCI Express si sono evolute nel corso degli anni e sono notevolmente superiori al precedente standard AGP. Numericamente parlando l'evoluzione ha portato a etichettare queste schede con il suffisso 1.0, 2.0, 3.0 e così via nel proseguire del progresso tecnologico. Fortunatamente tutti questi standard hanno mantenuto la retrocompatibilità per cui potrai senz'altro inserire una scheda grafica 3.0 in uno slot 2.0 e viceversa. La difficoltà non sta tanto in questo standard quanto alla struttura costruttiva della scheda PCI Express che ne determina anche le sue prestazioni. Infatti ogni scheda PCI Express può avere un'interfaccia diversa in base alle prestazioni. Come naturale conseguenza della costruzione anche gli slot avranno dimensioni diverse per cui l'alloggiamento sulla scheda madre dovrà essere adeguato tra slot e scheda PCI Express. Cerchiamo di semplificarle. Diciamo subito che il termine di identificativo di ogni scheda PCI Express è etichettato con il suffisso per 1, per 4, per 8 e per 16. Sono dei numeri che corrispondono alle prestazioni. Ogni numero indica una quantità di canali che ovviamente incrementa la velocità di elaborazione dei dati con il crescere della cifra stessa. Per semplicità immagina i canali come dei tubi di gomma che servono per caricare o scaricare acqua da un bacino. Ovviamente più grande sarà il numero di tubi, quindi di canali, maggiore sarà la velocità di carico e scarico d'acqua e nel tuo caso ovviamente di flusso di dati della scheda grafica. Ogni canale però a sua volta presenta due linee, e quindi come se ci fosse un canale al cui interno sono presenti due tubi. Una linea viene utilizzata per inviare i dati, ossia caricare acqua, e l'altra per riceverli, ossia per scaricare acqua. Il preso conto di tutta questa descrizione è che una scheda PCI con standard per 1 possiede un solo canale ma bidirezionale, quindi a due linee, per caricare e scaricare acqua, ossia caricare e scaricare bit. Una scheda con standard PCI Express per 4 indica quindi 4 canali a due linee doppie, una scheda standard per 8 indica che la scheda stessa possiede 8 canali a due linee, infine per ora una scheda per 16 possiede 16 canali a due linee, quindi come se fossero un totale di 32 linee per inviare e ricevere dati. Quindi nell'acquistare ed alloggiare una scheda PCI Express dovrai curare attenzione a questi parametri, controllando la scheda madre grazie al libretto di dotazione oppure visionandola direttamente quando avrai acquisito la necessaria esperienza per individuare quali slot sono presenti all'interno della stessa e quindi quali standard PCI Express può installare la scheda madre stessa. Quindi dovrai constatare la forma dell'interfaccia, quindi del connettore della tua scheda grafica ed individuare sulla scheda madre il corrispettivo spinotto grazie anche alla serigrafia post accanto. In mancanza della serigrafia, anche se abbastanza difficile, potrai sicuramente utilizzare il libretto di istruzione della motherboard nel quale troverai tutte le indicazioni oppure andando sul sito del produttore della scheda madre per ottenere tutti i riferimenti numerici e le descrizioni del caso. Quindi, dopo aver individuato la zona, libera le alette metalliche di copertura del cabinet nel quale dovrai alloggiare la scheda stessa in modo da far uscire dal cabinet i connettori della scheda. Dopo aver liberato l'aletta metallica, avvicina la scheda grafica allo slot che avrai individuato. Premi leggermente verso il basso finché non realizzerai l'avvenuto aggancio della stessa. Ora prendi una vite e blocca l'aletta metallica della scheda al cabinet per fissarla in maniera definitiva. Al termine, controlla se sulla scheda grafica fosse necessaria un'ulteriore alimentazione ausiliara dedicata che preleverai in seguito dal tuo alimentatore. Eventualmente potrai carpire queste informazioni o leggendo il libretto di istruzione oppure il file allegato al CD di installazione della scheda grafica stessa. In caso di presenza di questo ulteriore spinotto di alimentazione lo collegherai non appena avrai inserito l'alimentatore all'interno del cabinet. A questo punto, guardando la scheda madre, ti potrebbe venire in mente una domanda del tipo ma perché sulla scheda madre sono presenti diverse interfacce a PCI Express? Una possibile risposta potrebbe essere quella di poter installare, pilotare quindi più monitor contemporaneamente da un unico computer anche se eventualmente potrebbe non rientrare nelle tue necessità. Ad onore del vero c'è anche da aggiungere però che ogni scheda grafica che abbia almeno due uscite video che normalmente sono di standard diversi consente di poter collegare due monitor contemporaneamente. A te a questo punto l'analisi delle motivazioni al riguardo. Ma continuiamo ad assemblare il tuo PC. Ora quindi è il turno dell'alimentatore. Prendi l'alimentatore dalla scatola ed individua la zona di assemblaggio dello stesso che più o meno si trova nella zona superiore del cabinet. A questo punto grossolanamente inserisci non in sede e indirizza la ventola dell'alimentatore stesso verso l'esterno del cabinet. A questo punto prendi quattro vidi e grazie ad un giravide avvitale dall'esterno per bloccare lo stesso. Ricordati che normalmente la procedura migliore per avvitare un componente è quello di serrare le vidi ad incrocio così come hai fatto con il dissipatore. Non appena avrai serrato l'alimentatore libera i vari cavi, spinotti, connettori che usciranno dallo stesso per poter iniziare ad alimentare le periferiche interne. I connettori di plastica che fuoriescono dall'alimentatore hanno in genere la denominazione Molex. Prendi ad esempio il connettore maschio a 20 piedini ed individua, quindi quello più grande, ed individua la corrispondente femmina presente sulla scheda madre. Di norma questo spinotto femmina sarà indigrato con la sigla ATX Power 1 o EATX Power o cose del genere. Potresti trovare questo connettore a 20 pin in realtà come un'unica sezione a 20 più 4 pin, come quello rappresentato in figura. In questo caso, se il tuo connettore che fuoriesce dall'alimentatore è a 20 più 4, ma il corrispondente piedino presente sulla scheda madre ha soltanto 20 piedini, prova comunque ad inserirlo. Qualora avessi qualche difficoltà, separa le due sezioni di 20 e di 4 piedini, inserendo quindi soltanto quello da 20 piedini. In alternativa invece potessi trovare proprio uno spinotto femmina presente sulla scheda madre di 20 più 4. A questo punto non ti rezzerà che inserire in maniera totale questo connettore a 20 più 4. L'inserimento del connettore avviene proprio sfruttando la conformazione, quindi non deve fare altro che individuare il verso, inserisci e premi fino a fondo realizzando così il serraggio del connettore stesso. In base al modello di scheda madre potessi trovare uno o due connettori femmina a 4 pin. Non ti preoccupare, in quanto se hai uno o due di questi connettori a 4 pin, sarà sufficiente individuarne uno alla volta, rendendo anche in considerazione la clip di serraggio presente sul spinotto stesso. Normalmente lo spinotto che abbiamo appena evidenziato si presenta così come in figura e sarà etichettato dalla sigla ATX12V1, non dovrai far altro a questo punto che individuare la serigrafia presente sulla schiena madre, prendere questo spinotto e inserirlo in sede. Questo spinotto normalmente è utilizzato per le schede madre di ultima generazione che necessitano un surplus di corrente per poter funzionare. Gli altri connettori evidenziati in questa figura e comunque tutti gli altri connettori che fuoriescono dal tuo alimentatore li riprenderai di volta in volta per collegare le altre periferiche che ti descriverò dalla prossima lezione. Ora come sempre un grosso saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima! Grazie! 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 Grazie!